fare cose tanto intime, ma quei nei io li ho visti, solo c'è... Cretino! Ma quali nei? Io non ho nessun neo! Ma sì! No! Ma sì! Ce l'hai! Sulla naticuzza, di diecio... Avanti non direi bugie, via! Va bene, va bene, avanti, va! Basterà controllare, fammi vedere, va! Ma che fammi vedere? Nel caso vedo io! E vabbè, ho tu io la stessa cosa, no! Ma io so dove sono e vado sul sicuro! Ma che volete controllare? Se mai controllo io, che sono donna! E va bene allora, Vincenzo, controlla pure, ma questi due maiali se ne devono andare, se no finisce male! Andate via! Portatevi senza guardare, eh! Eh sì, guardare! Avevo tutto suo sbaglio io di guardare a lei! Sì, non devi guardare! Ma dimmi un po' una cosa, ma sei sicuro che ci sono queste nei, eh? Sicuro! Sicuro? Sicurissimo! Ho capito, sicuro, sicuro! C'ho avuto niente? Qui non c'è nessun neo! Ma dove li hai visti? Ma come? Eppure ci devo...